Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale per la Pasqua 2021 tra le tante uova di cui mangiamo il cioccolato non poteva mancare anche la Kinder già con delle sorprese perché abbiamo scoperto che c'è dentro la sorpresa perché non l'abbiamo già aperto 5 tipi Pulcino, Scoiattolo, Castoro Castoro, Rana, Cucinella e Pecora ci sono solo questi esattamente e poi Alessia Lunga il pulcino mi sa che va a ruba perché c'era solo lui uno prende un cestino, ci mette dentro queste cose e fa il cestinello di pulcini gli apriremo il cioccolato e quello Kinder le sorprese non lo so non sono specifiche anche perché io ho aperto la pecora ne ho aperto una e dentro c'era un pappagallino e ho paura che ci sia solo il pappagallino in tutti il pappagallino andiamo a vedere, quale vuoi aprire per primo? la rana la cucinella subito con la cucinella sì, perché la rana e il pulcino sono i miei preferiti quindi vanno per oggi mettiamo un tovagliolo di Star Wars con Darth Vader qua dietro così qua anzi, per metterci il cioccolato vai la stagnola invece io devo fare una cosa però quando apro sti cosi devo fare sempre una cosa cioè? non posso fare a meno di farla che cosa? assaggiare? no fare questo ah, gli hai staccato la testa a morsi perfetto bene quindi a tutti quindi oggi non pranzi perché mangi teste di animali di cioccolato allora dammi il cioccolato guardate che bello guardate quanto è spesso il bianco e sottile il marrone questo è tutto mio va in frigo perché si deve indurire diventare croccante e dopo va lo assaggio dopo pranzo assolutamente un pezzettino no, è diverso no, è diverso cosa abbiamo trovato? una volpe allora io però è lo stesso scopo dell'altro allora mentre ah cioè prendilo lì nella villa cioè si vede il pappagallino ah è qua questo era quello che avevamo trovato nella pecora nella pecora doppia insomma sì non ne capisco molto l'utilità però diciamo che dondola dondola vediamo qui abbiamo la mezza checklist ah adesso ho capito il gioco praticamente voi avrete questa specie di catapulta dovete lanciare i fiori e farli cadere dentro al cestino che vedrete e questo vale anche per il pappagallo quindi probabilmente troveremo solo questo perché vedo che c'è la rana il pulcino lo scoiattolo e non è quindi un castoro il coniglietto e la pecora quindi in ognuno potremmo trovare questi qui e troveremo questi punto ma io questo l'ho trovato nella pecora e saranno messi misti però quello è ecco qui adesso vediamo anche lo scoiattolo vai vai apri il prossimo quelli sono i fiori e questa è la catapulta col gioco e questo è il cestino è quello il cestino vuoto ma adesso guardiamo solamente mentre tu apri vi faccio vedere insieme ne abbiamo due bello utilizzando entrambe le mani io non riesco a mettere a fuoco ha mozzicato la testa giustamente perché deve mozzicare la testa di quello se no non è contenta via io mangio teste allora del kinder io dico io dico io dico che troverai il pulcino hai trovato il pulcino hai trovato il pulcino ho azzeccato abbiamo trovato il pulcino però sullo skate sullo skate aspetta vediamo e in effetti alcuni personaggi hanno lo skate l'ho visto adesso allora adesso mi è più chiaro abbiamo scoiattolo e pappagallo che giocano al gioco del cestino poi abbiamo il pulcino e la pecora sugli skate e il coniglio e la lana che si lanciano una palla e quindi speriamo di trovarlo per farvi capire com'è adesso intanto apre il castoro è uno scafandro vabbè fa niente a me sembra un castoro eccolo qua il pulcino che poi sta mangiando un kinder che sarebbe lui cosa deve mangiare giustamente un kinder mangia un kinder un kinder mangia un kinder un kinder che mangia se stesso è una cosa carina no? no non è carina per nulla guarda gli hai aperto il testa povero castorino scoiattolo oramai l'abbiamo chiamato castoro rimane castoro dai va è un castoro bene ne è caduto un pezzo questo mangia papà e adesso secondo me troviamo il coniglio 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 per avere anche no doppione del pulcino doppione del pulcino doppione del pulcino che non montiamo a questo punto perché essendo doppione non lo montiamo e lo regaliamo a qualcuno vabbè dai montiamolo lo stesso ma no che montiamolo lo stesso aspetta vami a vedere ci siamo dimenticati di fare una cosa di far vedere uno la scatola il montaggio i cespugli i cespugli si perché lui deve fare lo zig zag tra i cespugli lo zig zag tra i cespugli vabbè andiamo a aprire avanti a aprire il prossimo intanto ci abbassiamo così li vediamo meglio da vicino almeno li ho staccati quale apri adesso rana o pulcino rana io ti aiuto e ti porto avanti il lavoro ma che bravo che sono ma che bravo papà è che ti apre vediamo qua rana 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 super rana ti ho fatto il sarcofago egizio che si apre così va che roba invece di strappare tutto povera rana cosa gli fai adesso a sta rana mi è mai capitato in passato di tenere in macchina gli ovetti kinder arrivare dove dovevate arrivare e trovare del liquido e basta a me è successo all'interno della stagnola devi leccare il cioccolato dalla stagnola che è una cosa che dà un fastidio mamma mia no una volta non era col kinder però avevo un cioccolatino è presente quelli cioccolati l'hai bevuto praticamente no era sciolto tipo crema era buono e perché hanno inventato i kinder joy perché almeno d'estate le uova non si sciolgono e hanno quello che è già sciolto cosa abbiamo trovato doppione no no spero rano coniglio per vedere il nuovo gioco direi rano coniglio perché quello è un ponte ho trovato la rana dentro la rana la rana dentro la rana perfetto dov'è la checklist è questa sì allora le istruzioni per montare in pratica la rana spara un disco non ho capito come si monta così guarda guarda nel video non l'ho capito lo stesso vediamo io non ho capito come si monta sai che ah per così non ho capito come si monta il coso il coso verde eccolo qua passa in mezzo così in pratica vedete quello è solo così spingendo da dietro aspetta si carica e poi parte e va fatto fare canestro all'interno del cerchio che stava andando Sara capito una fionda praticamente si praticamente si mettiamo anche lui giù e apriamo l'ultimo uovo a forma di bestia che ci è rimasto quindi abbiamo trovato una rana questo è doppio lo mettiamo dietro uno per gioco sicuramente due catapulte uno skate un altro skate doppio e una fionda o qualcosa del genere della rana quindi vediamo abbiamo mozzato la testa anche al pulcino giustamente per sempre dimostrare di averlo fatto perché non sia mai che qualcuno non creda che mangiamo le teste agli ovetti kinder qui facciamo sparire un po' di roba è sporco ovunque cosa abbiamo trovato doppio doppio è ragione pappagallo no rana rana abbiamo trovato la rana doppia fai vedere giusto da montare e intanto un bello starnuto allergico io vi ringrazio vi invito a schiacciare la campanella per essere aggiornati sui prossimi video condividere i video mettere un like commentare scrivendoci quello che volete e come sempre noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao